Ciao a tutti! Oggi prepareremo la granita caffè messinese. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 minuti. Gli ingredienti sono zucchero, caffè congelato e cubetti di ghiaccio. Andiamo a preparare la ricetta. Inseriamo all'interno del boccale lo zucchero. 10 secondi. Velocità 10. Rioniamo sul fondo con la spatola. Inseriamo i cubetti di ghiaccio. Il caffè congelato. Chiudiamo. 1 minuto. Velocità 7. La granita è pronta. Andiamo a metterla in un bicchiere. Granita caffè bimbi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie per la visione!